Come si era a bordo? Come si era a bordo e quello che è il controllo dell'ambiente, integrato dell'ambiente, quindi fondamentalmente il controsenso che a bordo si chiama domotico. Il riparto della componentistica elettronica specificatamente è prodotta per l'utilizzo a bordo, quindi utilizzo nautico. Forniamo un sistema su protocollo proprietario EasyBus aperto a tutti gli altri sistemi disponibili sul mercato che potrebbero essere Crestron piuttosto che AMX o altri. È interfacciabile anche attraverso sistemi di controllo e monitoraggio tecnico via RS232. La nostra componentistica ha un'ampia gamma di prodotti che gestisce tutto quello che sono le sorgenti luminose, da incandescenze, LED, alogene e qualsiasi altro tipo di tensione o voltaggio che possa esistere. Abbiamo moduli specifici per il controllo delle tende, quindi per ovviare a quello che è l'utilizzo degli encoder ai motori e altre interfacce utenti tipo placche da incasso, plug and play tra l'altro, che vanno a ridurre e semplificare quello che è l'impiantistica e la cavistica di bordo. Controlliamo la parte prettamente domotica, abbiamo escluso da anni ormai il monitoraggio tecnico. Si può utilizzare praticamente il nostro sistema all'interno di altri sistemi, oppure, o meglio, le nostre componenti all'interno di altri sistemi. In fiera non presentiamo alcuna novità particolare, tranne delle interfacce, delle placche utente a incasso magnetico e spessore ridotto, plug and play con varie finiture in pelle. Quelli che ci cercano sono per l'affidabilità del prodotto, la marinizzazione dei prodotti, l'ampia gamma dei prodotti, quindi che va praticamente dal quadro elettrico alla sorgente luminosa a fine all'interfaccia utente, che potrebbe essere una punzantiera a paratia. Ci cercano per la precisa gestione e puntuale gestione dei LED, specialmente dei LED di nuova generazione, che sono i RGB wide, che permettono di gestire attraverso un unico corpo luminoso, quelli che sono tutta la gamma colori, si parla dei milioni, e tutta la gamma delle temperature di bianco.